Una giornata di festa per chi da una parte ha brindato la salvezza, chi come l'Avezzano ha festeggiato il ritorno in Serie D. All'antistadio Flacco l'anticipo dell'ultima gara di eccellenza si apre con il pasillo che il Delfino Curi Pescara regala alla squadra avezzanese per la vittoria del campionato. Venendo al match schieramenti tattici ridisegnati per Bonatti e Torti che regalano tanti minuti a chi ha avuto poco spazio nel corso del campionato. All'assettimo subito vantaggio a Vezzano, errore di Paulilli in impostazione, pallone regalato a Dos Santos che entra in area e batte calore per lo 0-1. All'undicesimo punizione di Bisegna che non c'entra la porta, poi si accende il Delfino, percussione sulla destra, cross al centro di Di Giovacchino che non trova nessuna deviazione. Poco dopo Sabatini recupera palla a tre quarti campo, serve Massa che in area con il Mancino non trova il giro giusto. Alla mezz'ora cross di Sassarini per la coordinazione volante di Blanco, gran conclusione, grande anche la risposta di Calore. Con le immagini di Andrea Tiglio e Di Blasio passiamo alla ripresa, la prima conclusione in realtà arriva al ventesimo, incursione di Massa che si presenta face to face con l'esordiente Ridolfi che è super nello sventare una getto occasione. Poi ancora Massa che arriva sul fondo, la cross al centro con Rossini che viene anticipato sul più bello. Il pressing pescarese si fa sempre più asfissiante al ventottesimo, cross di Falco dalla destra, ancora Rossini gioca aereo, fa la barba al palo. Nel momento probabilmente migliore dei padroni di casa sponda di Dos Santos da rivedere la sua posizione per un possibile fuorigioco. Azione che prosegue, pallone allargato su pendenza che in diagonale batte Calore, fa 2-0 e sigla il ventesimo gol in campionato. Nella finale due miracoli di Ridolfi, prima su Falco poi su Marzucco nel mezzo, il colpo di testa di Pastorini che non trova la porta ma termina dunque così. L'Avezzano chiude con una vittoria, la vittoriosa stagione. Il Delfino Curi-Pescara, Avezzano 0-2. Ma sì, era una cosa simpatica che penso che sia stata doverosa per il cammino che ha fatto l'Avezzano, un campionato difficile, tosto. Loro hanno meritato di vincere quindi è stato un omaggio a loro, la grande squadra che sono. Abbiamo anche degli amici nell'altra squadra quindi è stato un gesto d'amicizia. Come dicevo prima, non commenterei tanto questa partita ma quella che è stata questa stagione per il Delfino. Tiriamo le somme, salvezza raggiunta matematicamente la scorsa giornata ma idealmente magari da 4-5 è stata un'impresa. Sì, infatti hai detto bene, io non mi soffermerei su questa partita perché magari portare dei punti a casa in quest'ultima partita sarebbe stato il regalo finale, la chiosa perfetta di questa stagione fantastica. È stato un campionato tosto e da due anni che non si faceva un campionato intero. Quindi sembra che sono stati tre campionati in uno contando che due anni fa abbiamo finito a marzo. L'anno scorso ad ottobre è stato veramente stancante. Siamo stati penso fantastici, da quello che mi dicono record di punti del Delfino in eccellenza, quindi cosa non da poco. Media anni in campo tra le più basse del campionato. Sei forse il più anziano, forse Simone Marzucco nel 96. Il più vecchio è il 96, cioè il più vecchio ha 26 anni. Quindi queste cose tante volte in campo magari non si vedono perché sono tantissimi grandi giocatori con qualità tecniche, veramente, non dico di categoria superiore, però veramente, veramente eccelse. Quindi penso che l'anagrafica, l'età anagrafica che era in campo non è mai stata una cosa penalizzante. Abbiamo finito partite con otto under in campo contro squadre che con questo campionato hanno poco a che fare. Quindi io mi limito soltanto a fare i complimenti a tutti perché è stato veramente un bel cammino, tosto, ma siamo contenti per come è andato a finire. Un gesto che noi non ce l'aspettavamo, per cui è stato un gesto bellissimo, ci hanno reso onore a questo grande percorso. Però questo ha dato merito a loro che si sono dimostrata una squadra veramente in gamba, all'altezza. Una squadra che rispettano tutto e tutti, ha dei valori sia dentro che fuori del campo. Mi preme ringraziarli perché hanno fatto una cosa che nel calcio difficilmente si vede. Parlando della stagione, è arrivata una vittoria, l'ultima vittoria dell'anno, a coronare quella che è stato appunto un percorso fantastico dei suoi ragazzi. Come possiamo racchiudere una stagione così importante? La racchiudiamo con il discorso di questa partita che è stata una partita sì vinta, ma molto, molto sofferta. Questo anche per merito del Delfino che il secondo tempo ci ha messo in là e abbiamo sofferto molto. È stata tutta l'annata così perché nessuno ci ha regalato niente, abbiamo secondo me strameritato di vincere questo campionato per il percorso che abbiamo fatto. Siamo rimasti sempre sul pezzo, ci sono stati dei momenti di difficoltà come succede in tutte le squadre del mondo. Però noi, ripeto, ci siamo ricaricati e siamo andati avanti per la nostra strada e alla fine abbiamo raggiunto questo grande obiettivo. Mi preme ringraziare la società, il direttore, il presidente Paris, tutti i miei collaboratori, tutti i collaboratori, il magazziniere, i fisioterapisti e non ultimi ragazzi perché sono stati eccezionali, a dir poco eccezionali. In gamba veramente straordinario, un gruppo fantastico che si rispettano e si vogliono bene. Questo è stato secondo me il segreto di questa vittoria. Il fatto è che tutti quanti hanno sempre amato per cercare di raggiungere questo obiettivo e alla fine si sono riusciti meritatamente. Siamo con Dos Santos e Laguzzi per un'intervista particolare perché Dos Santos ha chiesto a Laguzzi cosa? Chi è il peggiore dello spogliatoio? È il migliore anche, no? La risposta ci sta. Sì, dai, ci siamo. Quindi, vediamo. Domanda di Dos Santos, chi è il migliore e il peggiore dello spogliatoio? No, sinceramente devo dire la verità, un migliore non ci sta perché è una banda di matti, veramente. Però di peggiori andiamo sul pesante. I peggiori ne abbiamo uno qua, Dos Santos sicuro. Ci guarda anche Donatangelo, non lo so. No, Donatangelo lo mettiamo tra i meno peggio, tra i più equilibrati dello spogliatoio. Come in campo mette equilibrio anche nello spogliatoio. Ma poi il peggiore c'è da dire Damiano Zanon con le scelte musicali. Nello spogliatoio mette la playlist di Zanon scandalosa, perché vuole fare, capire, mette il giovane, invece no, invece mette le canzoni di 30 anni fa. E Dos si accoda insieme a lui. Dos che ne pensa invece? La playlist non metti niente di latinoamericano, di basiliano? No, no, ti pensa Damiano il playlist. Ti pensa Damiano. Il peggiore, cominciamo con il peggiore. C'è un Emanuele Lombardo che è clamoroso. Mamma mia, fai schifo. Bisegna, peggio. Poi ci si chi è, aspetta, chi è? No, no, pendenza pure. Lascia stare, la playlist di pendenza vogliamo parlare. Però, bisegna, pendenza, Dos Santos, insieme avete fatto, in campo perlomeno. E meno male, perché se andavamo come dentro l'espoidore eravamo ultimi. E meno male, meno male. La playlist di pendenza non si può sentire, lascia perdere. Ogni 70, 70, 50, lascia perdere. Pendenza è il peggiore. La playlist è proprio da cancellare dal mondo proprio. Poi la playlist è più albanese. Albanese mette le canzioni comunque carine. Albanese alla fine sta in caccere, comunque sta tranquillo. Poi altro? Che vogliamo parlare poi? Di chi, Lagu? Di chi parliamo? Ma... Non lo so. Si stanno mettendo sulla difensiva i due? No, no. Non volete fare... Eh, perché lo possiamo rivelare tutti i segreti, come è fatto mettere insieme una banda così, non lo so. Ma a proposito, quale storia è il segreto, secondo te, di questa vittoria? È perché siamo una banda. Quello è il segreto, una banda organizzata siamo. Quindi, hai visto? No, no, al di là di quello. Il segreto è che siamo un gran gruppo, siamo, da luglio che stiamo a correre tutti insieme, da lo stesso obiettivo. Quindi, quello è il segreto, un grande gruppo. Anche perché poi con il mister, parlavamo, mister Torti, è vero che pendenza Dos Santos, 50 gol in due, pochi gol subiti, però è anche vero che c'è una squadra davvero formidabile, sia dentro che fuori dal campo, come poi hai ricordato tu. Sì, sì, ci sta, ma anche Marti. Marti, infatti, anche Marti ha fatto 10 gol, se non mi sbaglio, anche lui fa parte del riparto offensivo, quindi va a merito anche a Marti. Poi siamo tutti, siamo una squadra, dalla porta fino in attacco, i ragazzi che stavano in panchina, chi entra, non avevamo il titolare, perché quando entrava, entravano tutti con lo stesso pensiero. Per quanto riguarda invece il pacco fuori quota, insomma, fuori quota credo migliori del torneo, tra cui, ovviamente, se anche tu si vuole continuare a crescere. Allora me ne fai. Oh, grazie. No, ti ringrazio, no, sicuramente i grandi come Dos, Marco, Sassarini, tutti quanti, di Girolamo. Sto facendo nomi solo perché stanno qui, oppure? No, 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 perché la verità, pure Sassarini che adesso non c'è, di Girolamo, tutti quanti ci hanno dato una mano a crescere, ma mi riallaccio alle parole di Dos, la vera forza nostra è stato il gruppo, cioè un gruppo fantastico. E anche noi più piccoli ci siamo sentiti parte di un qualcosa che poi ci ha portato alla vittoria, dai. Bravo, Raku! Ti ho detto che eri stupido, hai visto, è arrivato.